La finanziaria ha ridotto di 1 miliardo e 300 milioni di euro i contributi per i teatri siciliani. Ogni ente vedrà ridursi i fondi del 20%. Un provvedimento contestato che ha portato anche all'occupazione del Teatro Ballini di Catania da parte di orchestra e maestranze. Il finanziamento regionale al Teatro Massimo di Palermo è passato da 7 a 2 milioni di euro. Una situazione che allarma il commissario straordinario Paolo Carapezza Guttuso che rivendica il ruolo svolto dal teatro. Sappiamo che la Sestore Stancheris, in cui nutriamo molta fiducia, naturalmente anche nel Presidente Crocetta, non vorranno sacrificare una realtà così importante, produttiva, come quella del Teatro Massimo. Una realtà, l'unica realtà lirica nazionale che ci sia in Sicilia. Quindi attendiamo indicazioni, prenderemo i provvedimenti, ma non permetteremo a nessuno di chiudere il Teatro Massimo. Il commissario Carapezza si rivolge all'assessore al turismo Michela Stancheris anche per sottolineare l'importanza del teatro in chiave turistica. Noi lanciamo un'ulteriore indicazione all'assessore che abbiamo anche incontrato insieme con altri rappresentanti, perché nella sua veste di rappresentante del turismo, sicuramente abbiamo molte indicazioni anche noi relative a questo, perché noi siamo anche un polo di attrazione turistica. Noi siamo riusciti con le nostre mostre a alzare il numero di visitatori a 160.000, quindi uno dei monumenti più visitati della regione.